Rinnovo esenzioni del ticket per motivi di reddito dal sapore più agro che dolce. Le immagini che vedete si riferiscono al Lanciano presso la sede ASL di via Don Minzoni dove tutti gli eventi di ritto si sono presentati presso gli sportelli per presentare la documentazione necessaria all'esenzione ticket per la maggior parte anziani. In pochi minuti dall'apertura degli sportelli le file sono diventate lunghissime con tempi elefantiaci e la pazienza progressivamente assottigliata. Quando ci si è resi conto di dover aspettare per ore le proteste sono state ripetute dai toni accesi lamentando la mancanza di organizzazione che anno dopo anno è purtroppo sempre la stessa. Cittadini inviperiti che hanno segnalato l'accaduto al Tg Max. Per partire dal numero 21 si trova il numero 37. Dopo due ore e un quarto ha fatto circa 20 persone. Non so fino a che ora dobbiamo stare qua. Già siamo stati qua venerdì qui. Io ho il numero 59 si trova a 37. Da stamattina alle 8. Partire da 21 quindi 21 per andare a 37. Ne ha fatto sì 16 persone. Siamo qui 70 persone. Guarda un po' dentro che ci sta. ci sono persone anziane che non ci sono neanche le sedi per sedersi. Questa è l'Italia. Prima davano i moduli e quindi dando i moduli uno usciva fuori, se lo riempiva e stava a posto. Noi invece il modulo non lo danno quindi comunque si perde mezz'ora ogni persona perché devono riempirlo lì allo sportello e quindi mica è giusto. Da anni torniamo sempre per la stessa cosa immancabilmente. Organizzazione zero.